benvenuti bentornati sbordone league stadium complesso kennedy comincia la diciannavesima edizione per red bull e mossos alla cercare qualcuno de rossa poi col tacco neri ha provato ad inventare donatone in calcio d'angolo primo corner della gara fa la deviata segnato forse esposito forse neri neri dice che ha segnato esposito dal nulla uno a zero primo gol della diciannovesima edizione dei red bull alla firma di esposito uno a zero rimessa laterale a cercare neri la prolunga furgione donatone ancora furgione ancora donatone poi esposito palleggio la palla è lì occhio a furgione destro palla arriva di perna sinistro de rosa poi rispo col sinistro furgione palla a disposito col destro destro secco all'angolo ancora red bull assegnato ancora esposito doppietta ad esposito ancora esposito voler l'ingresso in aria palla dentro per furgione donatone ancora cambio fascia perde il pallone c'è neri con furgione in aria ancora donatone parte di fiore quindi furgione rispo di prima bene per neri tocco poi luca esposito dentro ancora per neri grandissima azione dei red bull ancora una volta un eterno toni donatone tocco però andare via anche lui pepellone tocco per furgione esposito furgione col destro ancora donatone a chiudere poi furgione recupera palla destro ancora donatone bannini col destro bordata di furgione prova lui mezzo esterno ancora donatone palla dentro che gol di neri mamma mia sinistro ma che bomba alle spalle di donatone 3 a 0 golasso lasso di neri la pallaria di fiore occhio a di fiore serpentina ancora di fiore di fiore grandissima azione personale di fiore finisce con la parata di paduano 3 a 0 real in vantaggio contro i mossos rosa palla lunga paduano con la manona poi il sinistro pellone con la spalla 15 mino dietro c'è neri occhio a neri neri prova a rientrare neri col destro donatone con i piedi poi c'è ancora luca esposito valla sul fondo va lungo rispo campo aperto per neri neri conta il rimbalzo destro donatone e poi ancora neri esposito finta il destro poi calcia in un fazzoletto si gira palla in fallo laterale quindi rispo pellone va via anche al secondo quindi neri in area neri dentro per furgione 4 a 0 cala il poker i red bull grandissima azione personale di pellone tocco dentro per neri l'appoggia a furgione che non può che ribadire il pallone in porta 4 a 0 arte esposito col destro donatone fa bene a ridere altra manata in calcio d'angolo fa diretto in porta de rosa finisce 4 a 0 poker dei red bull contro i mossos i red bull vincono 4 a 0 dare un attimo la parola donatone hanno preso quattro gol e sono solo quattro perché merito è tuo hai fatto un'altra grandissima prestazione tonio non è al caldo vedo subito allora praticamente dobbiamo fare molto di meglio è inutile giocare perché prima cosa è divertirsi la cosa e poi non ci conosciamo in mezzo al campo quindi era questa la prima partita prova test già però il secondo tempo visto a cosa è cambiato avete preso un gol poche volte diciamo gli avversari sono arrivati in porta al primo tempo invece tutto da rifare la mentalità sicuramente per fare un qualcosa andare a rivincere arrivare a vincere cominciando a divertire cominciando a giocare assolutamente sì noi salutiamo donatoni dove arrivano i red bull saliamo lontano il primo tempo 3 a 0 avete quindi riservato le energie noi salutiamo a disposito lo salutiamo anche donatoni saldano anche ai tutti